Estra ha presentato il bilancio di sostenibilità 2015. Il gruppo rendi conto agli effetti socioambientali delle attività svolte e il loro impatto sulla società civile. Estra distribuisce sul territorio 182 milioni di euro. È il valore aggiunto territoriale del gruppo energetico. Una ricchezza distribuita, dipendenti, azionisti, finanziatori, enti, fornitori, collettività. Estra produce oltre 47.000 kWh di energia elettrica da fonti rinnovabili. La produzione ha consentito nel 2015 l'abbattimento di oltre 22.000 tonnellate di anidride carbonica, ossido di azoto e polveri sottili. Agevolazioni per cambiare la caldaia. Estraclima, a chi sostituisce la vecchia caldaia entro il 31 dicembre, consente di pagare la nuova, senza interessi, in 24 rate di meno di 90 euro al mese. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.